In altre parole, buona domenica. Questa sera ci occupiamo di un tema che interessa davvero tutti, il tema della fragilità dei giovani e non solo dei giovani. Ne parleremo con la professoressa Stefania Andreoli, benvenuta, e con Serena De Sanni, che ha una storia che sentirete dopo, ma prima vi devo raccontare io la storia di una ragazza che comincia, questa storia, con una ragazza appesa a un cornicione al secondo piano di una scuola, dopo la pubblicità. La sedicenne è appesa al cornicione del secondo piano della scuola. Una insegnante è riuscita ad afferrarla per la cintura dei pantaloni e lotta disperatamente contro la sua volontà di buttarsi. Franco, il bidello della scuola, sente le urla e corre in cortile. Conosce bene quella ragazza che vive in comunità. Ogni volta che la vede arrivare a scuola le chiede come sta e lei risponde sempre bene, poi però abbassa gli occhi e tira dritto. Vederla appenzolare su quel cornicione gli fa tornare alla mente una storia di quattro anni prima, quando rientrando a casa aveva visto una macchina rovesciata in mezzo a un prato. C'erano tre ragazzi dentro, due stavano bene, ma il terzo aveva provato a rianimarlo lui, Franco, con un massaggio cardiaco, in vano perché gli era aspirato tra le mani. Da quel giorno Franco non è più riuscito a dormire bene e così adesso al dramma della ragazza appesa al cornicione si aggiunge il suo. Non vuole fallire ancora una volta nel ruolo di salvatore. La cintura dei pantaloni si spezza e la ragazza cade giù. Franco non ha tempo per pensare, si mette sulla traiettoria e appena sente il peso della studentessa sulla testa istintivamente allarga le braccia e rotola a terra con lei. Sono salvi tutti e due. La ragazza non dice niente come al solito, neanche stavolta, mentre tutta la scuola applaude e chiama Franco eroe. Lui ringrazia, è imbarazzato, però qualcuno lo ha sentito sospirare. Forse questa notte riuscirò finalmente a dormire. Eh sì, in altre parole, l'Italia sta diventando un paese di persone fragili e non sempre c'è un Franco in grado di salvarla. Ne parliamo stasera con la professoressa Stefania Andreoli e con Serena De Sandi che ci racconterà una storia... un'altra storia forte. Questa è successa, che ho raccontato adesso, è successa questa settimana, ma ormai si susseguono. Ci sono dei dati statistici, però la professoressa sono spaventosi, sul numero di tentati o purtroppo riusciti suicidi, che però sono la spia maggiore di un disagio molto più generale, che magari non arriva al punto estremo, ma che è diffuso nella nostra società. Di recente, vi ricordate, Fedez ha fatto una dichiarazione sui social che ha diventato subito virale, dove diceva che il problema della salute mentale, in questo momento in Italia, della depressione, è il primo problema che dobbiamo affrontare. Ecco, che ci sta succedendo? Allora, a partire da una cornice quantitativa, secondo me, in effetti ci aiuta. Lo confermo, i numeri ci dicono che nella fascia della popolazione, tra i 15 e i 25 anni, il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Quindi, ignorare che sia un'allerta ci renderebbe veramente molto miopi e molto sciocchi rispetto a un tentativo di prevenzione che pur si può fare. È altresì vero, per dare una nota di speranza, che per quanto siamo sempre di più nel mondo, in realtà negli ultimi anni i tassi di suicidio nei giovanissimi si sono ridotti del 9%. Questo proprio ci fa dire che parlarne in un modo nuovo, in un modo buono, in un modo intelligente, che faccia una divulgazione precisa e scelga altre parole per dire, è una, in effetti, delle deviazioni possibili che fa scegliere un gesto e all'ultimo magari farlo diventare un'altra cosa. Adesso ne parleremo con Serena. Intanto possiamo darci del tuo? Volentieri, Massimo. Stefania, è facile in questo periodo dire, specialmente in questo periodo proprio, prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina, adesso quello che sta succedendo in Medio Oriente, tutte queste notizie incidono in qualche modo sull'umore di noi adulti, figuriamoci, di un giovane. Io ricordo vagamente come sono cresciuto da ragazzo, anche allora c'erano delle notizie, però questa cappa che c'è adesso non si respirava. abbiamo avuto tutti, per fortuna, io ho avuto la fortuna di avere un'adolescenza da questo punto di vista un po' più leggera. Questo incide tanto? Oppure è una scusa? No, consideriamolo perché tu ti stai riferendo di fatto ai dati psicosociologici, cioè ci siamo noi che siamo persone. E poi noi in quanto persone ci muoviamo dentro ad un sistema molto più ampio che in qualche modo ci trascende. Mi fa sorridere perché mi fai pensare che io ho fatto l'adolescenza negli anni 90, probabilmente l'anno, il decennio del bengodi dal punto di vista delle mancate brutte notizie. Quindi in effetti questo credo che abbia scritto parte della mia biografia. Però mi piace ancora una volta sparigliarti un po' le carte e dirti che in realtà che questo sarebbe stato il millennio dove avrebbe regnato la depressione come disagio mentale, lo sapevamo da ben prima della pandemia. Perché le previsioni ci portavano tutti in quella direzione lì. Perché di fatto stiamo creando dalla digitalizzazione in poi delle condizioni che ci rendono apparentemente sempre più connessi, in realtà con sempre meno dei franco, come raccontavi in apertura, a disposizione, che siano davvero lì per noi, ci guardino occhi negli occhi con autenticità e ci tendano una mano che possiamo prendere. La verità è che siamo sempre più soli e facciamo sempre più fatica a pensare. Io credo anche per la mia esperienza clinica che oggi tra i fattori di rischio ci sia un'assenza di pensiero forte che ci restituisce un senso dell'esistenza C'è anche di consapevolezza, non sono più consapevoli di quello che viviamo Al quale aggrapparsi Serena, raccontaci la tua storia che si lega ai discorsi che sta facendo la dottoressa Andreoli Quello è il lieto fine, è una storia per il lieto fine, diciamo subito che piacciono a noi Però la storia non comincia molto bene, comincia con una ragazza che vive a Bari poi si trasferisce a Bologna durante l'università e cosa succede? Allora mi trasferisco l'ultimo anno dell'università, quindi prossima alla laurea e mi mancava solamente un esame, quindi convinta del fatto che poi sarei riuscita a raggiungere comunque il titolo, mi sono trasferita In realtà questo titolo non l'ho mai raggiunto, nel senso che ho avuto grosse difficoltà a sostenere l'ultimo esame e svariate volte, ricordo tra l'altro che ero nella fase piena del Covid quindi erano esami telematici, tutto telematicamente Questa solitudine di cui parlavi Sì, 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 assolutamente E c'era un legame, c'era un problema con la materia di studio o con la professoressa? Nemmeno col docente singolo, perché in realtà era un esame che per superarlo era necessario seguire diversi professori quindi affrontare un'interrogazione con diversi docenti, assistenti Erano cinque, quindi era un esame comunque abbastanza impegnativo E accadeva che comunque non riuscissi mai ad arrivare alla fine dell'esame perché arrivavano quegli intoppi Non ero sufficientemente preparata, a quanto pare Secondo io Che io ho sempre rispettato Quindi questo mi ha portato sempre a impegnarmi al massimo per l'appello successivo Poi è successo che comunque è diventato un po' demotivante Perché sono arrivate anche frasi abbastanza intense Come è però Non è molto bello avere studentesse e studenti come lì nella nostra università Noi abbiamo comunque un certo livello Più volte che ha sostenuto l'esame Probabilmente non nel percorso per lei Dopo esserselo sentito dire Dopo tre anni di studio Comunque io ho fatto anche liceo classico Quindi ho comunque proseguito Disistima, ti interrompo un attimo Stefania E così c'è La disistima può Cioè sentirsi non apprezzati dalla persona che ti deve giudicare È uno strumento che C'è un elemento che ti può Prostrare Di me se sei d'accordo Serena A me sembra che stiamo raccontando di un mancato riconoscimento Era come se tu non fossi più tu Vedi come ci ha tenuto a dire che arrivasse già da un percorso di studio impegnativo Che è il liceo classico E come a un certo punto si fosse sentita raccontare Come un'estranea davanti allo specchio Che invece ti aveva sempre riflesso un'immagine di te Fatta di un ideale che non riconoscevi più negli occhi dell'altro Disistima è un termine corretto In psicologia lo chiamerei Mancato riconoscimento o rispecchiamento È giusto? Giustissimo È un fattore di rischio in effetti Anche per i tentativi di atti anticonservativi E a quel punto cosa succede? C'è una sera della tua vita Che insomma non ti dimenticherai più No Io ci tengo comunque a specificare Che era già una fase molto complessa per me A livello anche personale E l'università era secondo me All'epoca il luogo sicuro Nel senso che per molti di noi Terminati gli studi del liceo Quindi del diploma L'università è una tappa obbligatoria Perché altrimenti si rischia di fallire Non si raggiunge un livello di apprezzamento Di stima E quindi la corsa diciamo contro il tempo Di iniziare l'università subito Dopo il diploma Quindi non si ha nemmeno il tempo Di scegliere effettivamente Quello che può essere il percorso di studi Di formazione più adeguato Alla propria persona E questa fretta mi ha pesato molto Al punto che poi Questo malessere che già c'era Si è intensificato al punto Che le parole di questi docenti Mi sembravano talmente reali Che io ho iniziato a dire Ok forse hanno ragione loro Davvero hanno ragione loro Quindi io tutti questi anni di studio Non sono stati così autentici come credevo Era l'ultima data dell'appello di febbraio Quindi non avrei avuto altra disposizione E quindi molto serenamente con me stessa Mi dissi che se non fosse andata bene Evidentemente il problema ero io Cosa che poi è successa Ti è andato male? È andato male Sì in realtà non è durato nemmeno molto Quindi va bene così insomma A quel punto il mondo ti è crollato? Sì cioè nel senso Quello che ci tengo a sottolineare È che io tutto questo disagio L'ho appreso dopo con la terapia Perché in quel momento era un ok Non c'era consapevolezza Sì non c'era la consapevolezza assolutamente Come programmato Come avevo deciso come stessa la sera prima Poi io passai la giornata in casa Quindi non mi feci sentire con nessuno Dei miei amici I miei genitori anche E verso le 6-7 programmai l'invio di tre mail A le persone per me più importanti E avevo preso quella decisione di Porre fine a tutto questo malessere Perché per me Tre mail in cui salutavi le persone Esattamente Davo le mie spiegazioni Alle persone care Se ai genitori Sì 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 E specificavo che Io ero in quel momento felice Perché Mi sembrava Che fosse la cosa giusta Come se fosse un castigo Che dovevo affrontare Perché non avevo raggiunto Il livello che Io mi ero autoimposta Che la società Mi aveva portato Ad autoimpormi E poi è successo Che quella sera Appunto Riuscì a mettermi in contatto Con la mia psicoterapeuta Dicendole che Avevo preso questa decisione In termini velati Però lei aveva capito Perché lo sapeva Che era uno scoglio importante Ed è rimasta con me Per diverse ore Cercando Al telefono Sì sì Tramite chat Ah c'eravate in chat Sì sì Quindi vi guardavate anche Non era una videochiamata Era per messaggi Perché io non volevo Avere nessun tipo di contatto visivo Non me la sentivo nemmeno con lei Che sa tutto di me ormai Dopo Comunque Sono un po' di anni Che E quindi avete cominciato Ti interrompo ancora un attimo Certo certo Ti è mai successo Di trovarti in una situazione del genere? Urca sì Fortunatamente Perché fate un lavoro Voi che Mamma mia Infatti Freud diceva che Il nostro lavoro E quello degli insegnanti È un lavoro impossibile Perché poi in effetti Tu sei insieme all'altro Ma è dell'uomo della strada Credere che noi Cambiamo l'altro Che leggiamo nella mente dell'altro Che capiamo l'altro Noi non capiamo proprio un bel niente Solo che se siamo Abbastanza bravi Abbastanza umani Siamo lì A portare Sulle nostre spalle Diviso per due Il dolore dell'altro Che non è il nostro Con il massimo del rispetto possibile In quei momenti Quando ogni tua singola parola Puoi decidere L'umore Della persona Che sta decidendo Io rimarrei senza parole È il caso di dire Non riuscire a dire niente Allora in una trasmissione Che si intitola In altre parole Ti dico come Si dovrebbe fare Poi purtroppo Noi sentiamo cosa è il fatto È una recita Soggetto te la giochi sul momento È vero che ti trovi su un crinale Ma quello che vale in quel momento È la presenza Essere lì Massimo Che è un valore che abbiamo Completamente perso E quindi non possiamo E dico sempre Vale in generale Allora in generale Noi pensiamo di dover fare No Ma guarda che il dover fare È quello che ha ammalato lei Noi dobbiamo essere È così Io dico sempre Che mio figlio Da quasi 5 anni La parola che ripete di più È guardami Guarda papà Guarda Guarda Cioè lui vuole Che tu sia presente Nella sua vita Ma è il rispecchiamento Di cui ti parlavo prima Da grandi non lo diciamo più Ma continuiamo a pensarlo Adesso sentiamo invece E cosa La collega di Stefania Andreoli Che cosa Ti ha detto in quei momenti Più che altro Io Cercavo Un motivo Per restare Per esistere Che sono due parole Bellissime ma diverse Anche a livello etimologico E E lei mi ha dato la sua opinione Che sono La natura I fiori L'arte La vita Lei hai chiesto Che per quali ragioni Devo continuare A stare in questo mondo Assolutamente Perché io ho detto In questo momento Non vedo niente Non vedo proprio niente Niente in cui posso Rivolgermi A cui posso rivolgermi E lei mi ha fatto Una semplice lista Che in quel momento Ho detto Sì sono cose bellissime Però non sono un motivo La natura E c'era proprio intorno a noi Mi colpì moltissimo Perché pensai proprio in quell'istante Ma perché non mi ha scritto Ce la puoi fare Ce la dobbiamo Non devi Ma dobbiamo fare Quindi mi ha dato Quel Stefania cosa vuol dire No guarda È la pelle d'oca È il plurale La colpita Cioè Questa sporta così pesante Che ti porti addosso È la tua Io non te la posso togliere Però rimango Guarda che Senza saperlo Lei sta raccontando una cosa Che in letteratura è strabiliante Che si chiama Effetto papagheno E tu? Papagheno Da uno dei protagonisti Io facendo questo programma Imparo un sacco di cose Il sabato Da Roberto Vecchioni La domenica Da te Cos'è effetto? Allora ti insegno Arriva da uno dei personaggi Del flauto magico di Mozart Dopo una delusione d'amore Aveva deciso Di porre fine alla sua vita Ma cominciando a pensare Grazie all'aiuto Degli altri personaggi Quali avrebbero potuto essere Delle cose alternative Dopo l'amore Che non avrebbe perso Se fosse rimasto in vita Cambia idea Quindi Effetto papagheno Significa poter approcciare La fine della vita dell'altro Non come un tabù Che lo rende indicibile E quindi più probabilmente Effettuabile Per assurdo Ma come qualcosa Che restituisce Della speranza Adesso dirò una cosa forte Ma abbiamo qui qualcuno Che può o confermarlo O disconfermarla Ognuno di vita ha la sua Massimo E di ragioni Per le quali Porvi fine Non possiamo immaginare Che ce ne siano Di ecumeniche Perché sarebbe irrispettoso Verso i singoli Però la mia esperienza Una cosa me la racconta Io non ho mai conosciuto Nessuno Che abbia desiderato Di morire Per morire Io ho sempre Solo conosciuto persone Che hanno desiderato E della cosa Una cosa bella Veramente bella Un'altra cosa Io quella frase Ma diventa un'opportunità L'amore per il latino Continuiamo 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 ad averne cura Ci sono tantissimi Poi stili Che hanno adottato La cura Per ciò che è fragile Pensiamo al Kinsuji Giapponese Però in generale Io non Ho accettato Di essere fragile E non solo Mi sono resa conto Che si tratta Di una peculiarità Che sicuramente Ha i suoi lati positivi Nel senso che Ti permette Di essere davvero Consapevole Di quello che sei E di quello che puoi fare Però è come una pianta Un fiore Va curata Non va dimenticata Va carezzata E Perché Diventa davvero Qualcosa di speciale E' talmente speciale Che il luogo migliore Per curarla E' la stanza Del nostro Jacopo Veneziani Prego Jacopo Buonasera Buonasera Curaci Sì Mi stavo Ascoltando Non dal buio Della mia stanzetta Questa settimana Da quello del camerino Però ero poco lontano Ho seguito tutti i vostri Ragionamenti E mi sono chiesto Ma come è stata rappresentata La fragilità In arte Devo dire che Il primo dipinto Che mi è venuto in mente Si intitola proprio L'Umana Fragilità Ed è un'opera Del 600 Di Salvatore Rosa Pittore E poeta Napoletano Partirei da qui Perché questo è un dipinto Che rappresenta Sia la fragilità Dell'artista Che dell'essere umano In generale Mi rendo conto Che è un quadro un po' cupo Forse non proprio Da domenica sera Magari più da lunedì mattina Visto il mood Però ora capirete Perché L'ho scelto Rosa lo dipinse In un momento Di grande dolore personale Dopo che la peste A Napoli Aveva praticamente Sterminato la sua famiglia Suo figlio Rosalvo La moglie Il cognato Cinque nipoti Sono rappresentati Dalle figure In basso Quelle su cui Piomba L'angelo Della morte Rosa era talmente Straziato Da questa vicenda Che nella lettera A un amico Pensate Scrisse Mi sembrano vani Tutti i rimedi umani Quindi anche La fragilità Della medicina In questo caso E vorrei farvi notare In particolare Tra tutti i dettagli Del quadro Quel putto In basso a sinistra Vedete Eccolo qua Ve l'ho ingrandito C'è un bambino Che soffia In una bolla Ecco lui non sta Giocando Quella è il simbolo Di un famoso motto Di Erasmo da Rotterdam Che diceva Omo Bulla Est Cioè L'uomo È una bolla È fragile Lo dicevate anche prima Può scoppiare Da un momento all'altro E questo motto Divenne così famoso Nel 600 Che diede il via A un vero proprio Filone iconografico L'uomo Bulla Questi personaggi Che appunto Soffiano Nelle bolle A simboleggiare La caducità Delle cose terrene L'incertezza Dei tempi Vi faccio anche notare Una piccola curiosità In questo dipinto Se torniamo all'immagine Completa dell'opera Vediamo una donna Seduta a destra Con indosso Una corona Di rose Quello era un modo Trovato dal pittore Per veicolare il suo cognome Si chiamava Salvatore Rosa Quindi è quasi Una firma nascosta Ecco questo è Proprio un chiaro esempio Di fragilità barocca Ma vorrei anche avvicinarmi Un po' all'attualità Parlare di una fragilità Più moderna E consapevole Diciamo E per questo Vi ho portato Il gentiluomo Irritante Di Bertold Volze La protagonista Del dipinto È questa ragazza Che visibilmente È colta In un momento Di grande fragilità È in lutto È vestita di nero Ha un fazzoletto In mano Abbiamo anche Se zoomiamo Sul suo volto Il dettaglio Della lacrima Eccolo Che le cola Dall'occhio destro Ma questa sua fragilità Viene messa in discussione Dall'uomo Alle sue spalle Che cosa fa? La importuna Con grandissima mancanza Di empatia Non sappiamo Se la stia molestando Se voglia fare Il simpaticone Se la stia semplicemente Osservando Capiamo però Che di sicuro Le crea disagio Infatti Cosa fa questa ragazza? Reagisce Cerca con gli occhi L'appoggio Di noi spettatori Quindi a testimonianza Anche questo L'avete ribadito prima Che la fragilità Può anche Diventare una forza Cioè Nel momento Di maggiore insicurezza Consce della propria debolezza Le persone trovano Il coraggio La forza Per chiedere aiuto Quindi la fragilità Certo che riguarda La vulnerabilità Ma può anche essere L'inizio Di una forma Di autoanalisi Che poi diventa Un modo per ripartire Dico bene Dottoressa Qui mi affido a lei Perché non vorrei dire Degli strafalcioni E C'è un esempio Ancora più vicino Ai nostri tempi Secondo me Nel quale Molti di voi Si identificheranno È New York Movie Di Edward Hopper Artista Lui in questo caso Famosissimo Definito Pensate Americano Come i jeans La coca cola E l'alienazione urbana E in questo quadro Vediamo una donna Per la quale posò La moglie di Hopper Mettendosi sotto Una lampada In casa Che si apparta Dalla sala Di un cinema Semivuoto E che viene dipinta Dal pittore E tutta la sua fragilità Interiore ed esteriore Era una caratteristica Questa di Di opere Non sappiamo E non sappiamo Cosa stia facendo Sta piangendo Sta pensando Sta soffrendo Sicuramente Non si è partata Per rispondere al cellulare Perché per fortuna All'epoca Non esistevano Chissà magari Qualcosa nel film Che stava guardando La turbata Si è vergognata Della sua fragilità Della sua sensibilità Non lo sappiamo I quadri sono anche belli Perché sono interpretabili Però questo dipinto Mi ha ispirato Un pensiero Perché credo che Sia capitato A tutti noi Almeno una volta Di nasconderci Quando viviamo Un momento Di debolezza Di difficoltà Proprio come questa signora Io credo che Anziché isolarsi Sia meglio Condividere Perché credo che In quel caso Ci accorgeremmo E l'abbiamo capito Anche questa sera Che molto spesso La fragilità Di uno È la fragilità Di tutti Quanto mi sta diventando Ad urto Questo Jacopo Quanto mi sta diventando Saggio A questo punto Stefano Abbiamo bisogno Di chiudere Con un consiglio Utile Noi lo chiamiamo La farmacia dell'anima Vorremmo che tu ci portassi Un consiglio Proprio pratico Utile Per tutti coloro Che vogliono Combattere O comunque Accudire La propria fragilità Ma ce lo dai Dopo il super spot Ecco Grazie In altre parole Ben tornate Abbiamo chiesto Stefano Andreoli Di lasciarci Con un consiglio Utile Per la nostra Farmacia dell'anima Un libro Insomma Allora Il consiglio È questo Facile Più a dirsi Che non a farsi Però provare Per credere Non combattere La nostra fragilità Perché andandole Contro Si incattivisce E non rispettiamo La nostra natura Noi di fatto Siamo fatti Di acqua e fragilità Vale per chiunque Dobbiamo Accomodarci Si dentro A volte leggendo Io mi curo leggendo È una terapia Che funziona E quindi ho pensato A cambiare l'acqua ai fiori Di Valerita A proposito di acqua A proposito di acqua È una storia di storie È un romanzo corale Eccolo qua Riperra È un grande successo Di due anni fa Meritatissimo Dove tutti hanno perso qualcosa Alcuni hanno perso qualcuno Dove c'è La paura del futuro La ferita dell'amore Ma di fondo Passa il messaggio Che il cimitero Non sia l'ultimo luogo Dove fermarsi C'è qualcos'altro Che ci aspetta Ci possiamo fermare qui Se non l'hai letto Leggilo Lo farò Io auguro a tutti Una buona serata Grazie In altre parole Ci vediamo Saluto prossimo Do la linea in onda Rimettiamo Togliamo la modalità aereo E diamo la linea in onda Grazie per l'ascolto Tutti i podcast di La Sette Sono disponibili su www.lasette.it Slash podcast Grazie per la visione Grazie per la visione